Festival Bar Italia, una tappa della Notte della Taranta, Donatella Rettore, poi ancora Puccia, Cesco, Accasaccio e tanti altri artisti che si alterneranno nei cinque giorni di programmazione del Palasummer che giunge alla sua quarta edizione. È un evento che spazia da spettacoli per bambini a spettacoli per adulti, per giochi per bambini, meno bambini, insomma è un evento da vivere, da guardare, da vivere quotidianamente. È un grazie in particolare al Comune e alla Regione che ha consentito di avere questo spazio e questo momento per i cittadini gratis e in un momento particolarmente complesso per ciò che concerne la gestione degli spazi pubblici dell'area verde che in città oramai sono poco utilizzabili quasi tutte. Iniziamo il 24, dal 24 al 28 luglio, praticamente da mercoledì a domenica della prossima settimana e che dire, il grande evento della Regione Puglia ritorna a Lecce per aprire la stagione estiva, un calendario molto ricco e ricordiamo che è ad accesso libero perché è un evento pensato un po' per tutti. Noi ci piace definirlo il festival del festival perché all'interno si alternano nel corso delle varie giornate, oltre che cabaret, ma anche sul palco diversi artisti. Un appuntamento fisso dell'estate grazie alla caparbietà, l'intraprendenza di questo gruppo di organizzatori, ma soprattutto del palasammer, di rivedersi anche in una chiave non invernale fieristica, di dare una destinazione differente a uno spazio polietrico e questo è il senso anche con cui la Regione premia da pur rinareare gli eventi e questo è diventato un grande appuntamento della stagione estiva pugliese, non solo salentina, non solo del CES.